Caccio purtroppo è così. Non esiste, è segreto. È un'emozione grandissima. Stupendo, bello, troppo bello. Non ci credo ancora. Svolge di un lavoro eccezionale. Grazie. Abbiamo l'onore di essere qui nella nostra redazione Corriere Laziale con Luigi Miccio. Ok, quest'anno passerà al Savio nella categoria allievi fascia B. Partiamo insomma dalle origini. Diciamo che tu come allenatore in qualche modo nasci già al Certosa quando ancora eri giocatore. Venivo da un anno giocato discretamente come difensore centrale alla Libertas 100 CL. Venne scoperto un piccolo problema ad un occhio. Feci un'operazione. Già in quegli anni nel mio piccolo avevo il desiderio di provare a cimentarmi con il ruolo dell'allenatore e a farmi fare questo salto ci hanno pensato due persone che per me sono state molto importanti e lo sono tuttora. Una è Mauro Grilli e la seconda persona è una persona che tuttora è molto importante per me e a cui devo tanto, che è Antonio Musci. Proprio Musci mi disse Luigi tu sei portato, tu puoi dare qualcosa ai ragazzi. Il primo gradino è stato quello del San Lorenzo se non sbaglio. Avevano deciso di affidare ad un solo allenatore che era il mister Rosati e due squadre. Il mister chiaramente non riusciva a seguire con la stessa attenzione entrambi i gruppi e quindi avevano bisogno di un ragazzo che desse una mano. Anche da lui davvero ho appreso tanto e gli sono grato soprattutto per una cosa perché dopo mezz'ora che eravamo al campo a primo allenamento lui mi lasciò e mi disse vuoi camminare da solo, puoi andare da solo. Un mondo a parte quel San Lorenzo, davvero molto vicino ai professionisti e devo dire che è stata un'esperienza fondamentale. Il secondo step è stato quello di arrivare al Pro Roma dove hai compiuto una sorta di miracolo. Non è per contraddirti ma non mi piace la terminologia miracolo riguardo al lavoro che abbiamo fatto. Non mi era mai capitato di incontrare dei ragazzi come quelli del Pro Roma con un'educazione, con una disponibilità, con un'immediatezza nel comprendere quella che era la situazione in cui ci trovavamo. Così totale come appunto hanno avuto questi ragazzi. Dovamo sempre essere al 200% perché se no probabilmente gli altri per esperienza, per mentalità, anche in alcune squadre indubbiamente come dicevi tu, anche per valori tecnici, non avremmo potuto avere un confronto obiettivo e paritario ma avremmo sofferto. La forza che poi renderà il protagonista il Pro Roma nei prossimi anni, io ne sono convinto, è anche l'ambiente familiare, la disponibilità delle persone, il farti sentire a casa. Sono eccezionali in questo da Pascucci, agli Svezia, Palocci e Formisani, i due segretari. Devo dire che agli scettici li devo ringraziare perché ci hanno dato forza. Prossimo anno il Savio, squadra importante, una responsabilità in più forse rispetto a dover raggiungere una salvezza. Io sento tantissima fiducia intorno a me e quello che mi ha dato grossa soddisfazione è che ho sentito fortemente la voglia di puntare su di me da parte di Alessandro Rubinacci, direttore generale, da parte del direttore sportivo Mocciola, da parte del presidente Fiorentini che mi sta dando molta forza e molta sicurezza. Prendo un gruppo importante, prendo un gruppo che è arrivato in quarti di finale, che si è giocato alla pari con una squadra di assoluto livello come il Tor di Quinto. Un gruppo costruito da un tecnico come Valerio D'Andrea, che è tra i più preparati a livello regionale. Credo che però l'obiettivo sia primario che sia un altro, sia sempre quello di formare calciatori, di dargli, come dicevi, un trampolino di lancio importante. Poi è chiaro che egoisticamente desidero un'affermazione dal punto di vista dei risultati, magari un giorno un torneo fascia B, un titolo regionale. Riuscire a far meglio in termini di risultati del gruppo 94 di quest'anno, che poi è stato allenato dal mister Cent'anni, non sarà facile. Significa arrivare alla fine regionale. Il compito è arduo, però non certo ci tiriamo indietro, nel senso siamo il sapio. Dobbiamo cercare di proporci sempre per lottare al vertice, con la consapevolezza di non perdere mai di vista l'obiettivo privario, che è la crescita della formazione umana, prima ancora che tecnica, dei ragazzi. Grazie a tutti.